8 maggio 2016, decima giornata mondiale della lentezza. Siamo alla Malcontenta, a Mira, in provincia di Venezia. E ecco chi arriva! Sono ancora loro, sono i Voravei. E chi è che abbiamo? Abbiamo Bruno Contigiani Provinga, il suo Battesimo del Remo, il mitico presidente di vivere con lentezza si cimenta con la voga veneta nell'ottava giornata mondiale della lentezza. Beh, abbiamo raggiunto l'apice di ogni lentezza. Siamo più lenti del lento inimmaginabile. Bruno il lento a Provinga, il ritmo ne risente, anzi ne approfitta. Così abbiamo raggiunto il record mondiale della lentezza. Gioite pure! Gioite pure!